Il signore ha vinto come l'edera, non se ne vuole andare, sta giustificando la sua presenza con il fatto che avere una maggioranza coesa e pertanto la democrazia è dalla sua parte perché in Parlamento ha la maggioranza, dimenticandosi che la sua è una maggioranza comperata con la forza della plutocrazia, non della democrazia. Secondo questa logica un'eventuale altra consenso elettorale che lui dovrebbe perdere avrebbe sempre la chance con la forza dei soldi di comperare quella categoria di deputati che sappiamo il cui livello morale è decisamente piuttosto bassino e di conseguenza continuare in perpetuo a comandare o a far comandare qualcuno dei suoi scagnozzini, delle sue pecore. No, non va bene così, lei ha bisogno di una bella visita fiscale a livello internazionale perché lei ha dei problemi cerebrali, la lui ha lavorato in profondità e per lui tutti sappiamo che significa la sifilide, gli ha mangiato il cervello e lei sta continuando a fare il prepotente in casa di altri, lei non è più in casa sua, il si levi di tutti.